Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube. Vediamo in questo filmato un raro prototipo della Lorenzon elettronica denominato Shine WMS. Questo mi è stato portato in visione da Marco Lorenzon in occasione dell'intervista che abbiamo fatto. Questo prototipo è l'unico assemblato, nonostante ci siano anche altri circuiti stampati, ma non assemblati. Questo è stato l'unico prototipo assemblato dello Shine WMS. Tuttavia però mancavano dei componenti che ho cercato di reinserire sulla scheda madre, questa qui, scheda CPU di fatto, per cercare di farlo funzionare. Però cerchiamo di capire che cos'è lo Shine WMS. Lo Shine WMS nasce come evoluzione dello Shine, in particolare a seguito dello Shine Business. Questo doveva essere l'evoluzione con tanto di doppio processore. Infatti qui potete vedere che è presente un 6502A, quindi 2 MHz, e uno Z80. La macchina sostanzialmente era pensata sia per poter eseguire tutti i programmi iscritti per lo Shine, ma anche per far girare il sistema operativo CPM grazie alla presenza dello Z80. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio qualche altro componente che è presente sulla scheda. Ovviamente potete vedere che ci sono un gran numero di integrati con un'etichetta. Tutti questi dovrebbero essere circa 7, se non sbaglio, o 7 o 8. Quindi qui ce ne sono 6, ecco ce ne sono 9. Questi sono dei PAL, ovvero sono delle logiche programmabili con l'obiettivo di sintetizzare vari elementi di logica e quindi ridurre anche le dimensioni del circuito stampato finale. Condensando appunto vari elementi di logica che avrebbero richiesto magari una cinquantina se non di più integrati. Dopodiché qui possiamo vedere che è presente una EEPROM, che è una EEPROM modello 27128, quindi da 16KB, e qui ha contenuto tutto il firmware per lo Shine WMS. Poi troviamo qui il CRT controller, che è un CRT controller modello 6545, e qui è affiancato da una RAM e un'altra RAM. Sono RAM da 2KB e questa RAM qui specialmente viene utilizzata per la funzione di RAM video sostanzialmente. Spostandoci più in qua invece troviamo la zona RAM. Qui è presente un primo banco di RAM da 64KB e in totale ci sono 4 banchi, quindi questa macchina poteva essere portata fino a 256KB. Tuttavia al momento sono installati solamente due banchi, quindi 128KB, tuttavia la macchina parte anche se è presente un solo banco, quindi parte già con soli 64KB. Come vengono forniti questi 64KB, attraverso 9 chip di RAM modello 4264. Ovviamente ogni chip produce un bit, quindi abbiamo 8 chip per fare i 64KB più un chip per la parità. Qui sono presenti tutta una serie di TTL, qui è presente anche un Deep Switch che immagino servisse per configurare quanta memoria, quanta RAM deve vedere il computer, quindi lo Shine WMS. Qui è presente il Quarzo da 14.318MHz che fornisce il clock a tutto il sistema. Questo era assente e ho dovuto saldarlo io nuovamente. Ovviamente mi era stato detto da Marco il valore del Quarzo e mi ha anche spiegato come da questa frequenza qui, questa venga raddoppiata e poi successivamente venga divisa per appunto fornire la frequenza di clock alle varie componenti. Questo per questioni di temporizzazione e di sincronizzazione tra di loro dei vari componenti, per evitare appunto problematiche che magari si erano presentate durante lo sviluppo dello Shine WMS. Vedete che qui è presente però anche un'altra scheda. Se questa qui è la scheda CPU, quella che abbiamo appena analizzato, questa qui è la scheda periferiche. Infatti potete vedere che sono presenti per lo più un gran numero di connettori di varia natura. Ovviamente qui sono presenti dei connettori che ricordano molto, connettori ad esempio o di un IBM PC compatibile o simili, oppure di un Apple II. E in effetti questi connettori qua sono connettori che permettevano allo Shine WMS di ospitare tutte le card di espansione dell'Apple II. Qui poi è presente uno speaker, quindi immagino che il computer mettesse anche tipo un BIP stile Apple II all'avvio. E qui poi sono presenti tutta una serie di connettori, suppongo questi fossero utilizzati per il registratore a cassette, suppongo ma non ne sono sicuro. E poi qui ovviamente c'è l'uscita videocomposita alla quale mi sono collegato per fare le prime prove di accensione. L'alimentazione viene prelevata da qui, questa qui è la massa, poi abbiamo i 5V e alla fine i 12V. Come si fa a capire quali sono le alimentazioni di fatto? Beh io questi qui ad uno ad uno mi sono posizionato ad esempio questo qui supponevo fosse la massa, mi sono posizionato qui e poi mi sono posizionato sul pin di massa di un TTL noto. E facendo così col test di modalità prova di continuità sono riuscito a capire appunto dove erano, cioè quali erano le varie alimentazioni da fornire. Ad esempio questo qui, questo cavo blu, andava a finire su uno di questi connettori qui. Fatalità nella posizione dove una card dell'Apple II prevedeva i 12V. Quindi ho capito che questa era la massa, questi erano i 5V e questi i 12V. Purtroppo però, tornando alla scheda CPU, c'è stato un problema, anzi c'è ancora un problema. Mancavano tre integrati TTL più eventualmente un quarto integrato posizionato qui. I integrati che mancavano oltre a questo erano questo qui e questo qui. Allora qui ho fatto un po' di fatica però con un po' di ragionamento ho cercato di capire quali potessero essere i possibili integrati da montare per far ripartire il computer. Di fatto ho guardato fronte e retro la scheda e ho visto praticamente che tutti i pin di uscita delle porte logiche interne all'integrato andavo a verificare dove andavano collegate. Capivo che erano appunto dei segnali che comandavano qualcos'altro in questa zona, zona RAM. E quindi lì ho provato a fare delle supposizioni anche confrontando questo PCB qui con il PCB di un Delta che era comunque un Apple II compatibile. Quindi ho pensato di fare un po' di confronti anche con altre schede note per cercare di capire quali potessero essere questi integrati da dover inserire per appunto far ripartire il computer. Volendo possiamo anche dare un'occhiata al lato saldatura dello Shine WMS. Qui potete vedere che ci sono un gran numero di cavi volanti, anche tutti questi serpentini qui. Questi sono stati fatti perché probabilmente in fase di sbroglio, vi ricordo che lo sbroglio era fatto completamente a mano, non c'erano tutti i software di adesso che segnano la RastNet, quindi tutti i collegamenti dei vari componenti. Ma qua era fatto tutto a mano, il posizionamento, lo sbroglio eccetera della scheda. Purtroppo non erano state inserite le alimentazioni di alcuni integrati e quindi per risolvere il problema sono stati fatti dei collegamenti sulla parte posteriore della scheda, lato saldature, per risolvere eventuali problemi. Anche qui sono stati fatti dei collegamenti tra i vari componenti, sono stati aggiunti addirittura dei condensatori, dei resistori per cercare di risolvere eventualmente i vari bug che si presentavano nelle fasi di test e di debug appunto del sistema. Andiamo ora ad accendere lo ShineVMS, ho collegato la scheda, questa qui, che poi si interfaccia con la scheda CPU a una TX che ora vado ad accendere e quello che si vede è questa schermata qui. Come potete vedere è una schermata abbastanza promettente, infatti sono delle righe orizzontali come ogni tanto magari capita di vedere in qualche Apple II Euro Plus quando non funziona molto bene. Quindi secondo me la causa di questo problema è la mancanza di questo integrato qui. Sostituendo questo integrato qui, sapendo che purtroppo non ci sono più gli schemi quali integrato andava installato qui, probabilmente il computer anche riparte e funziona tranquillamente. Nel frattempo una cosa che ho fatto, aspettate che lo spengo, una cosa che ho fatto è fare il dump della Apple, questa qui. E quindi ho provato a leggere anche i vari PAL, però questi, quelli che almeno riuscivo a intravedere la sigla ora riportata sotto, però probabilmente sono protetti da lettura. Ok. Sì qui poi anche qua probabilmente mancano due integrate, anche se non penso siano indispensabili. Comunque vi terrò aggiornati sugli sviluppi futuri se avrò qualche novità positiva in merito a questo raro prototipo italiano che Marco Lorenzo mi ha gentilmente prestato per appunto studiarlo, fare eventualmente questo video e poi anche tentare magari di rimetterlo in funzione. Detto questo spero che questo video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale YouTube. Grazie. Grazie. Grazie.